E' ora di conoscere questo famigerato Don Carlo. Ah, eccola, sembra che sia arrivato il momento di conoscere la nostra famosa scassinatrice. E il maggiordomo disse all'orso polare, mi spiace, abbiamo finito le uvette. Venga, 22. Niente di buono questa volta. 22. 22! Ho vinto di nuovo! 22! Ho vinto di nuovo! Mega va! 4! Ammiro il suo coraggio, signorina! Ed io ammiro la sua fortuna! La fortuna favorisce i coraggiosi e i fortunati! 4! Ho vinto! Fate le vostre puntate, signori, fate le vostre puntate. Buona fortuna a tutti! E voi cosa preferite? Pietre preziosi! Il pezzo forte della mia collezione è un diamante in tela della Toscana. Questa sera ho scoperto qualcosa di prezioso e perfetto. Peccato. Immagino sarà sicuramente chiuso da qualche parte. Mi avrebbe fatto piacere vederlo. È custodito nella mia villa per la fuoricittà. Può venire a vederlo quando vuole. Magari un'altra volta. Non credo di aver colto il suo luogo. È difficile da cogliere. Magari un'altra volta.